Ha recuperato palla, qui il numero 7 del Soccer Club che poi va alla battuta col destro e c'è il vantaggio Il vantaggio della squadra ospite per il gol dell'1-0, ha segnato il numero 7 di Savino Qui Riggio Qui errore del portiere, recupera palla allora il numero 7 del Soccer Club che poi viene servito in aria Il tiro, il raddoppio, il raddoppio del Soccer Club Numero 7 di Savino, ha pronto la battuta sul sinistra, va al tiro col sinistro, risposta plastica del portiere che mette in angolo